Prima gara dell'Euro Formula Open a Spa per il secondo round della stagione con Harrison Scott che parte dalla pole position e mantiene la posizione mentre Mejava Dianatan e Nikita Trojitski battagliano per la piazza d'onore. Sfila anche Delvin De Francesco affaiato al russo, fasi concitate all'uscita di Rujer Adion con un contatto che convolge anche Karkosic. Il lungo da parte di De Francesco e Trojitski in lotta per il podio per l'interno canandese che riuscirà comunque poi nel tentativo di portarsi a casa la posizione del sorpasso di Django Bivacqua per la quinta posizione a Iorio. Il contatto tra Simo Laksanen e Alex Karkosic che prosegue con l'ala piegata. Scott vede risalire Vandianatan che lo supererà nel corso della quarta tornata, anche Delvin De Francesco si avvicina. L'Indiano taglia così vittorioso il traguardo per la prima volta in campionato. L'Indiano vince gara 1 a Spa con il team Carlin. Sul podio con lui Harrison Scott e Delvin De Francesco, vincitore anche della classifica rookie. La gioia al moretto box del team Carlin. La gioia al moretto box del team Carlin.